Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare e far vedere le ultime novità che sono arrivate nel negozio, nostro sponsor, gioco libreria Semola, per quanto riguarda la parte Games Workshop e Warhammer. Questa volta non si parla di Warhammer 40.000, quanto di Warhammer Fantasy. Vedete che il sito è sempre e costantemente aggiornato, quindi anche direttamente in home. Trovate sempre le ultime novità, che ovviamente non riguardano soltanto i giochi da tavolo, wargame e boardgame, ma anche la carta e libreria, perché ricordo che questo qui è un negozio dove si può ordinare roba di cancelleria, libri scolastici, romanzi, libri e tantissime altre cose, soprattutto anche per la scuola. E andando qua giù nel catalogo, vedete che ci sono giocattoli, giochi in modellismo, o potete anche semplicemente usare il motore di ricerca. Comunque parlando oggi di Warhammer, quindi di prodotti Games Workshop, si va direttamente nel menu a tendina, qui a scendere, si va su Warhammer Age of Sigmar. E tra le ultime novità che sono arrivate, finalmente, finalmente, perché da quando l'hanno annunciata non vedevo l'ora, e ci stavo veramente impazzendo, perché ero curioso di vedere l'ennesima meraviglia che stava per tirare fuori la Games Workshop, è arrivato, c'è il preordine di Warhammer Age of Sigmar Dominio, che vi ricordo essere la nuova, la terza, forse la seconda o la terza, la terza mi sa, comunque la nuova edizione del regolamento di Warhammer Age of Sigmar, che introduce nuove regole, nuove meccaniche, senza poi andare comunque a snaturare quello che era l'idea principale dell'Age of Sigmar, le World Scroll e tutto quanto, ma ovviamente va un pochino a ritoccare e raffinare alcune regole per renderlo ancora più snello e molto più veloce, un po' come la GV sta facendo in tutti i suoi prodotti, stanno cercando di portarle a un pubblico che è giusto, giustamente, più ampio possibile, e stanno cercando di snellire molto di più i loro regolamenti e l'hanno fatta anche per Warhammer 40.000. Comunque, parlando di questa scatola di dominio, è una scatola, un set di base, dal costo di 155 euro, che comprende regolamento, come vedete da qua giù, comprende la scatola, il regolamento di dominio, quindi questa espansione che comprende anche una bella campagna, più due non sono eserciti completi. Comunque, visto che poi Warhammer ormai si basa e ti dà anche la possibilità di giocare schermaglie, diciamo che è una banda completa pronta per essere schierata sul campo di battaglia e dovrebbero essere, se non erro, da una parte gli Stormcast, che sono sempre stupendi, guerrieri divini e immortali del grande dio guerriero, Sigmar e da un'altra parte gli Orchi, che tra l'altro sono veramente di una bellezza inaudita e come vedete qua giù guerra a guardia d'Ambra, che dovrebbe essere, oltre al regolamento che è bello incartonato qua giù dietro, dovrebbe essere una campagna intera, un po' come hanno fatto, se vi ricordate, ve l'ho presentato nella scatola di Warhammer 40.000, l'ultimo che è uscito, il set di base, che è talato di una bellezza disumana. Il gioco costa il set base, al momento preordinabile, 155 euro e vi ricordo, quando andate a fare l'acquisto, usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Ora, il prodotto è preordinabile e io vi do un consiglio, come sempre. Mi ha fatto sapere Corrado, il proprietario dello gioco Libriera Semola, che ne ha, ora vi faccio vedere anche altri progetti, ne ha ordinate ben 24 copie, quindi ce ne sono. Però sono prodotti che vanno a ruba, a ruba perché è un nuovo set molto atteso che la gente vuole e ci sono già tanti preorder, quindi se lo dovete prendere col mio sconto, prendetelo quanto prima perché poi rischiate di comprarlo fa un mese o due, non lo trovate più nei negozi e qualche bagarino maledetto, passatemi il termine, ve lo vende dopo a 300 euro. Quindi vi conviene prenderlo assolutamente subito, anche perché, come vedete, il contenuto è veramente ricco e particolarmente sostanzioso. Poi c'è il preordine del prontuario generale 2021, sempre collegato alla nuova scatola di dominio di Age of Sigmar, volendo anche soltanto il libro base, quindi il regolamento, e poi abbiamo gli Slave of Darkness, quindi già alcuni set di miniature, sembra più una specie di QG, qualcosa del genere, che sta per uscire di Age of Sigmar, più tutte quante le novità del nostro negozio sponsor. Come vedete, le miniature della GV ve ne aprono a caso, per far contento il mio amico Pippo, che adora gli uomini bestia. Cioè, guardate questa miniatura qui. Cioè, guardate cosa è... Che poi tra l'altro è gigantesca. Sì, oddio, costa anche 125 euro, però è veramente gigantesca. Il dio della distruzione. Porco mondo com'è bella. E quindi trovate tutte quante le novità. La Gioco Libri da Semola ne ha ordinate diverse, ne ha ordinate 24 di questo set base, però vi consiglio caldamente di prenderlo. Quanto prima, perché poi dopo sento gente che si lamenta, eh, ma ho trovato tizio che me lo vende a 300 euro. Sì, però il negozio ce l'aveva le copie. Stava a te prenderle subito e non aspettare che finissero. Tra l'altro, bellissima la scatola così rosso, con lo Stormcast mi garba veramente da morire. E come vedete, per spedizioni gratis in Italia, ma anche all'estero, a partire da 79 euro. Quindi se lo ordinate, usate il mio codice scontro del 7%, non ci pagate manco le spese postali, in 48 ore ce le avete a casa. Dateci un'occhiata, perché il negozio è sempre aggiornatissimo e oggi, parlando di Games Workshop, ha sempre tutte le novità, tutte le novità in uscita e ne ha sempre diverse copie. Non ne ordina uno o due, come fanno tanti negozi, ma ne ordina a volte anche 20-30 copie, così da non rimanere sfornito. È veramente pieno zeppo di roba. C'è anche i White Dwarf. Quindi se vi volete abbonare alla rivista ufficiale della Games Workshop, lo potete fare direttamente dal sito e anche qui usando il mio codice sconto, andate direttamente a vedere e non vi scordate il codice discount Coridan7, tutto scritto maiuscolo. Fatemi sapere cosa ne pensate e se siete fanatici come me di Warhammer e dei prodotti della Games Workshop, non ve lo fate scappare. Grazie. Grazie. Grazie.